Buongiorno a tutti, rinnoviamo l'appuntamento ogni settimana con i Pilca Parrucchieri Group. Finora abbiamo parlato delle nostre tendenze, il nostro modo di fare e la nostra formazione, mentre oggi parliamo di alcuni servizi extra. Mentre questa settimana parliamo dei nostri servizi relax, andiamo ad analizzare lo specifico dei nostri servizi relax, che possono essere da uno shampoo a una barba. Concediti anche tu il tuo momento di puro relax. Appuntamento alla prossima settimana dai Pilca Parrucchieri Group. Grazie a tutti.